Ciao a tutti e benvenuti! Siamo sempre più vicini a Natale e infatti oggi dobbiamo aprire il sacchettino numero 23 perché siamo oggi quindi al 23 di dicembre. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Abbiamo trovato un altro filly witchy, una blind bag dei filly. Andiamo ad aprirla insieme. Eccola qui, uguale alle altre due che abbiamo trovato in precedenza e andiamo ad aprirla insieme. Wow! Vediamo un po' di chi si tratta. Si chiama Rea, strega dei cuori. Allora, in quanto strega dei cuori, Rea è sempre la prima da interpellare quando si tratta di problemi di cuore. È molto intuitiva e riesce a parlare con le figlie Xenia e Alice senza parlare, anche a distanza. Quindi riesce a parlare con il pensiero. Wow! Come le altre ha il mantello con il simbolo di appartenenza, il diadema, questa super criniera soffice e tra l'altro ha i colori di Fluttershy, dei My Little Pony. La mettiamo qui e andiamo invece adesso ad aprire insieme la casella del calendario dell'avvento dei Lego. Dobbiamo oggi aprire la casella numero 2 e questo vuol dire che mancano due giorni a Natale. Ok, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Wow! Un altro omino, un'altra action figure che andiamo a costruire. Fa sempre parte della schiera dei musicisti. Vedo già una visiera in più. Allora, mettiamo il busto. Abbiamo prima le bombole. È un musicista sub, anzi una musicista perché ha il rossetto e le ciglia lunghe, quindi direi che è una musicista. Prima della testa ci andava questo pezzo qui, che va messo così. Eh sì, giusto il boccaglio, suppongo, il raccordo per le bombole. Poi il caschetto e la visiera, che è sempre la più difficile da mettere. Ma ce la faremo, sono sicura. Allora, proviamo prima senza caschetto, magari più semplice. Ok. Il caschetto. Eccolo qui. E per ultimo, la chitarra elettrica, che si mette così. C'è un pernetto dietro. Ok. Eccola qui. La nostra musicista. Ho ancora dei problemi con il cappello, ma facciamo finta che io li abbia risolti. Eccola qui. Andiamo a vedere anche il resto della band, che abbiamo trovato nei giorni scorsi. Eccoli qui. Avevamo trovato prima il trombettiere, poi l'amplificatore con l'asta del microfono, e oggi invece abbiamo trovato la chitarrista. Quindi, ricapitolando, abbiamo trovato oggi una chitarrista e un fantastico filly, che si chiama Rea. E con questo vi saluto e ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!